Siamo con il dottor Brucaletto, direttore dell'ASP di Siracusa, che ci dirà la posizione dell'ente che le guida per quanto riguarda l'ospedale di Augusta, in un contesto che lo vedo protagonista oggi in un sit-in di protesta. L'ospedale di Augusta è stata, credo, una delle prime problematiche che ho affrontato quando mi sono insediato a luglio dell'anno scorso. È un ospedale che aveva delle criticità strutturali che hanno addirittura portato a seguito di un intervento dei carabinieri del gruppo del NASP ad una ordinanza di chiusura di tutto l'ospedale. Abbiamo fatto fronte a questa emergenza con un piano, anche questo in risposta alle emergenze strutturali dell'ospedale, per un recupero il più rapido possibile di quelle criticità strutturali che impedivano ovviamente lo svolgimento delle attività sanitarie in sicurezza. E oggi siamo in una condizione in cui finalmente possiamo dire di avere recuperato il 90% delle criticità. La sala operatoria ci è stata consegnata proprio l'altro giorno, adesso attendiamo tutti i collaudi, ovviamente, le verifiche tecniche, passaggi istituzionali che sono dovuti per riconsegnare alla città la fruizione di questa importante struttura, quindi le sale operatorie apriranno il primo settembre. E stiamo facendo anche tutto quello che è necessario perché in questi pochissimi mesi abbiamo fatto un'operazione di recupero importante perché impiantistica, condizionamento, compartimentazione, la presentazione della scia per mettere in sicurezza l'ospedale, i lavori della passerella che ci permetteranno tra l'altro di rendere questo ospedale unico. In questo momento avevamo due padiglioni separati che chiaramente dal punto di vista della funzionalità erano assolutamente improponibili. Anche su questo la consegna della passerella a settembre ci permetterà a ottobre di poter utilizzare quegli spazi che sono già in fase di collaudo, del nuovo pronto soccorso, radiologia, laboratorio e analisi, per cui questo comincia a essere finalmente un ospedale con una dignità, una configurazione che è quello che la città si aspetta, che il territorio si aspetta. Quindi sono anche soddisfatto da questo punto di vista perché in pochissimo tempo abbiamo fatto tutto. Se voi pensate che questa chiusura paventata dell'ospedale che siamo riusciti a impedire avveniva a gennaio di quest'anno e sono passati pochissimi mesi e oggi siamo già in una condizione di vedere un futuro diverso per questo ospedale, io credo di poter esprimere il massimo della soddisfazione per tutto quello che i miei uffici hanno fatto e per l'impegno che è stato messo in maniera prioritaria per recuperare criticità che ovviamente abbiamo trovato. Quali altre criticità dovranno essere affrontate? Ma guardate, io non credo che qui ci fermeremo facilmente perché è un cantiere, resterà un cantiere, basta girare per i corridoi. È un'operazione di recupero importante, abbiamo avuto in questo momento queste che erano le criticità principali, ma non finisce certamente qui. Siamo in attesa tra l'altro di un finanziamento che speriamo arrivi a breve di quasi 9 milioni di euro che ci permetterebbe di completare tutto quanto l'ospedale, c'è il terzo piano del nuovo padiglione dove ci troviamo in questo momento, il cui completamento è chiaramente nelle nostre intenzioni, non appena arriveranno i finanziamenti ex articolo 20 da parte del Ministero, che ci permetterebbe veramente di completare l'opera. Per cui la mia ambizione, la speranza è quella di riuscire veramente nel corso di questo mandato a chiudere la vicenda Augusta, cioè lasciare un ospedale veramente degno di tale nome. Quindi io sono fiducioso di questo e sono sicuro che ce la faremo.